Stanotte sono stato allertato verso 2.20-2.30 dalla stazione dei carabinieri di Bibbiena e mi dicevano che un signore aveva segnalato appunto questa frana, che è una frana anche di identità non proprio piccola. Quando sono poi arrivato qui c'era già una pattuglia dei carabinieri e dopo poco sono arrivate anche i vicili del fuoco. Sono questi gli enormi massi che questa notte sono piombati sulla strada. Una grossa frana nel comune di Montemignaio lungo la strada provinciale 70. Il comune di Montemignaio è il primo paese venendo da Firenze in provincia d'Arezzo ed è l'ultimo comune in provincia di Arezzo venendo dal capoluogo Arezzo e quindi per noi questa strada è fondamentale. I grossi massi si sono distecchati a monte ed hanno invaso l'intera carreggiata. Questa è una situazione che è dovuta sicuramente alle piogge di questi giorni che sono state copiose e anche forse alle piogge che ci sono state giorni addietro. Ma più che altro non c'è attenzione verso la montagna, quindi la nostra montagna si sta spopolando, la nostra montagna non ha più quella cura che prima avevamo, se poi ci mette anche gli agenti atmosferici il gioco è fatto. Fortunatamente non ci sono stati feriti né al momento ci sono famiglie isolate. Da qui arrivare alla consuma noi non abbiamo se non un agriturismo che ora sicuramente non ha nessuno, quindi non c'è nessuno isolato e per bypassare questo tratto ci sono altre due alternative. Al lavoro anche i tecnici della provincia di Arezzo per la messa in sicurezza dell'aria. La strada provinciale 70, infine dopo una momentanea interruzione della viabilità attorno alle 13, è stata riaperta.